Il Porto d'Ascoli batte anche il Fiuggi, conquistando il suo secondo successo consecutivo e avvicinando proprio i Laziali in classifica. Una vittoria firmata a Vittorio Pietropaolo, il classe 2003, schierato dal primo minuto, che ripaga la fiducia di Mr. Ciampelli. Un successo fondamentale e di prestigio contro una squadra costruita per lottare per il successo in campionato. I primi a farsi vedere sono proprio i Laziali che dopo soli 15 secondi vanno al tiro con Ficara dal limite dell'area, difettando però nella mira. Al secondo è il Porto d'Ascoli ad andare al tiro con una sponda di testa di Sensi per Napolano che ci prova al volo ma mette sul fondo. Al quinto il risultato si sblocca. Napolano calcia un corner dalla sinistra, colpo di testa sul primo palo di Pietropaolo che insacca con Mejiri che cerca di ribattere senza riuscirci. Gli uomini di Ciampelli insistono e hanno due occasioni per il raddoppio. Al settimo un colpo di testa di D'Alessandro viene fermato sulla linea da Mejiri e tre minuti dopo con Napolano che riceve palla direttamente da testa e calcia ma colpisce in pieno la traversa. Il Fiuggi è in difficoltà e fatica ad imbastire azioni manovrate e prova con conclusione della distanza senza fortuna. Nella ripresa rientrano gli stessi 22 in campo e il Fiuggi preme subito per riequilibrarla e nel giro di 5 minuti ha due grosse occasioni. Al quinto ci prova Frabotta dalla lunga distanza con testa che in tuffore spinge. Poi al decimo un colpo di tacco dall'area piccola del neentrato Sowe e salta ai riflessi del numero uno di casa che mette in corner. L'azione dei laziali si fa sempre più incessante col portodascoli che sembra in debito d'ossigeno vista anche la fatica accumulata tre giorni prima nel pantano di Nereto. Al diciassettesimo una conclusione dal limite di Ficara viene bloccata a terra da testa. Segue una fase di stanca del match e si arriva al trentaseiesimo quando Potenza riceve palla dalle retrovie e al volo provano un shoot che si spegne di poco alto. L'ultima emozione la regala Ficara con una punizione dal limite che trova ancora una volta testa reattivo. Nei sette minuti di recupero i Riveraschi riescono a tenere botta e a conquistare tre punti importantissimi. Sì, un gol subito su calcio d'angolo, poi ci abbiamo provato in tutti i modi, un po' per imprecisione, un po' per bravura del loro portiere. Non siamo riusciti a fare gol e quindi a portare qualche punto a casa. Se elogiamo il portiere vuol dire che qualche guizzo c'è stato, quindi naturalmente tutte le palle con le che abbiamo creato non si possono concretizzare sempre in modo migliore. Però ecco, ci tengo ad esaltare la prestazione dei ragazzi che dal primo minuto fino all'ultimo hanno veramente dato tutto. Hanno cercato di ribaltare la situazione, hanno cercato fino alla fine di cercare di pareggiare questa partita. Però nel calcio ci sono gli episodi e ci sono anche i portieri bravi, quindi va bene così. Fortunatamente si rigioca subito, quindi dobbiamo già pensare alla prossima partita e recuperare le energie, soprattutto mentali, ma anche fisiche, perché abbiamo speso tanto. Però insomma, siamo consapevoli di aver fatto anche oggi una bella prestazione contro una grande squadra. Contro una squadra forte, molto forte, che avevamo guardato nelle ultime apparizioni e oggi in campo ha dimostrato quello che aveva fatto vedere. Non abbiamo fatto una partita solida, abbiamo avuto la bravura di sbloccare su una palla inattiva. Di questo sono particolarmente felice perché il mio collaboratore dedica tanto tempo a questo aspetto e fino adesso non ci aveva premiato, pur avendo creato tante situazioni. E quindi chiaramente da questa situazione è nata questa vittoria, sulla quale poi abbiamo messo una partita da un punto di vista difensivo importante. Abbiamo sofferto negli ultimi dieci minuti, ma contro questo tipo di squadra è impossibile non concedere nulla. Però devo dire che oggi è una risposta da parte dei ragazzi molto importante.